Grazie Presidente, solo una precisazione, prima nella lettura c'è stato un rifuso, in realtà la riformulazione è titolare al singolare dell'ufficio requirente, grazie. Sì, la ringrazio. Allora, accetta la riformulazione? Sì, l'accetta? Va bene. Allora, il parere è favorevole, dichiaro aperta la votazione. Bene. Ci siamo. Tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 363, contrari 11, la Camera approva. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 1. Dichiaro aperta la votazione. Va bene. Allora, tutti hanno votato? Sì? La votazione è chiusa. Favorevoli 279, contrari 10, la Camera approva. Siamo all'articolo 2, che pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Va bene. Allora, ci siamo. Tutti hanno votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 245, contrari 5, la Camera approva. Adesso siamo al... Mi servono i pareri. Relatore Sarro, prego, l'articolo 3, se mi dà i pareri. Presidente, allora, sul 3.100 parere favorito.